ciao benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere cosa ti sta per accadere quindi da qui a breve da qui a breve significa dal momento in cui tu vedrai questo video anche se tu lo vedrai nel 2030 non importa va bene non darò tempi quindi lascio proprio spaziare nei tempi allora fai la sua scelta ma poi ascoltali tutti tre come ti dico sempre fra il primo marzo vediamo se lo vedete bene eccolo qua il primo marzo ametista secondo marzo quarzo rosa terzo marzo avventurina verde e andiamo un po vedere giù ti lascio i tempi time stamps e nelle informazioni di questo video per andare direttamente al tuo mazzetto così come anche i nomi delle carte che utilizzo in questo video ma partiamo subito allora vediamo per il mazzetto dell'ametista cosa ti sta per accadere vediamo un po le prossime novità partiamo dagli oracoli se vuoi questo mazzo di carte trovi il link giù in descrizione va bene partiamo dagli oracoli volume 1 e vediamo un po per coloro che hanno scelto l'ametista quali novità si possono aspettare ripeto non ho dato tempi quindi avrà validità da quando tu vedrai questo video va bene però io ho visto anche questa eccola allora prima carta la scampagnata la costruzione costruzione e la notte la scampagnata la costruzione la notte però vedi qui c'è la chiarezza ma guarda qui letteralmente ci può essere un qualcosa che ancora tu stai cercando effettivamente io vedo una comunicazione che potrebbe arrivarti che arriva a fare chiarezza su una determinata su una determinata situazione ma andiamo a vedere con i tarocchi che tu hai scelto cosa hanno cosa hanno da dire vediamo la cosa sta per accadere a coloro che hanno scelto l'ametista ok il sole è uscito a testa all'ingiù il sette di denari il 4 di bastoni queste sono volute per uscire il 6 di denari e la regina di coppe nel taglio nel taglio nel taglio il cavallo di spade ma guarda qui letteralmente tu potresti e il cavallo di coppe e il cavallo di denari guarda tutte e tre accidenti allora guarda ametista qui tu potresti avere conosciuto o lo conoscerai a breve qualcuno ok qualcuno una persona che magari aveva fatto intendere chissà quali cose magari si aveva fatto capire che voleva stabilità che cercava equilibrio e via dicendo però sinceramente qui si potrebbe comportare insomma in modo un po dubbio in modo un pochino ambiguo ma semplicemente nel senso che magari non si fa sentire questa persona magari ha avuto degli impegni magari ha avuto qualcosa non so non voglio dire che sia a livello come si può dire intenzionale lo sparire ma diciamo che qui dopo un primo acchito un primo inizio tutto rose e fiori fuoco e faville la persona potrebbe essersi dileguata semplicemente ma io vi vedo c'è un cambiamento quindi sicuramente qui da un momento un po' oscuro da un momento un po' ambiguo magari di paura anche da parte sua va bene riguardo questa persona quelle cose si potrebbero assolutamente non si potrebbero si sbloccheranno si muoveranno quindi se questo è il tuo caso stai tranquilla metista ok ma cosa vedo qui qui vedo un qualcosa anche un progetto proprio di lavoro se non si parla di lavoro proprio nel senso lato qui semplicemente di vita quotidiana un qualcosa che tu stai costruendo un qualcosa che tu stai facendo dopo una prima battuta di arresto fosse anche solo guarda il non riuscire a capire non riuscire a vedere determinate situazioni magari magari c'è qualcosa che non che non capisci e devi ancora definire va bene qui le cose si vanno ad esordere qui oltre a questo ci sono dei soldi che potrebbero che potrebbero arrivare dei soldini che magari è da tanto tempo che avresti dovuto ricevere ma che non avevi ricevuto ok che non avevi ricevuto e questi ti possono arrivare forse anche solo una parte di questi soldi magari un pochino meno di quelli che tu ti aspettavi però ti dovrebbero arrivare fammi sapere ametista va bene fammi vedere ancora cosa hanno da dirti per l'ametista vediamo cosa ti sta per accadere bella 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 guarda qui c'è veramente un come si chiama una è come se tu dovessi prende la situazione in mano capito anche se un tu ci vedi chiaro se magari tu hai paura ci possono essere delle cose non chiarite delle cose che ti spaventano un pochino qui tu potresti però avere quello scatto prendere in mano la situazione senza d'alti senza darti per vinta ametista andare avanti e riuscire qui ci sono ci sono anche se l'ho detto dei denari che possono arrivare uno spostamento che tu può fare un viaggio uno spostamento da qualche parte ma anche delle uscite qui ti posso vedere insieme insieme a delle persone comunque qui c'è un progetto che sicuramente tu porterà avanti qui tu stai costruendo tu vuoi costruire qualcosa qualcosa che ancora non ti è riuscito completamente però tu vedrai la cosa già breve da quando vedrai questo video si dovrebbe sbloccare le cose dovrebbero iniziare a muoversi capito ecco questa è la cosa più più che mi fanno vedere guarda allora giglio pesci io si confermo tutto quello che ho detto tutto quello che ho detto fin allora sicuramente come abbiamo già detto qui ci sono dei soldi dei denari ma qui vedo anche movimenti di denaro di famiglia ok e la dama va ok che è anche qua va bene movimenti di denaro di famiglia non so un'eredità qualcuno ti dà dei soldi o magari si parla come fare per fare questa transazione economica capisci quindi ecco un po a questo discorso qua no voglio vedere voglio vedere per capire magari anche con chi tu avrai a che fare vediamo i segni zodiacali vediamo per la metrista con quali segni zodiacali avrà a che fare la metrista allora sicuramente con il cancro come segno o come ascendente ovviamente con il cancro con l'acquario questi due no con la vergine con lo scorpione con la bilancia con il sagittario con i pesci e con i gemelli questi sono i segni che sono usciti in modo più come posso dire in modo più prepotente voglio fare un'altra cosa vado a prendere il mio sacchettino andiamo a vedere vediamo un po cosa hanno da dire guarda qui c'è una x o magari è nel nome nel nome del tuo progetto una x una e la f quindi la e la f la x il numero 6 6 o 9 possono essere tutte e due 6, 6, 9, 6, 9, 9, 6, 6 insomma ok magari sei del 69 te che tu mi ascolti per esempio per esempio o del 96 per amore di Dio o del 66 o del 99 insomma o semplicemente ti parlano di altro questi numeri e queste lettere fammelo sapere nei commenti che cosa ti possono che cosa ti possono richiamare ma guarda non so se è uscito il leone ma io lo sto vedendo è uscito il leone? no ma te lo dico io ti aggiungo il segno del leone perché lo vedo in modo chiaro quindi movimenti spostamenti viaggi ma anche soldi e progetti costruzioni un qualcosa che tu sta mettendo in piedi che tu riuscirai insomma a sbloccare nel senso che qui si va da una fase di incertezza o magari di un qualcosa che ancora non tu sai che tu devi venire a sapere tu devi studiare per riuscire a fare questa cosa eccetera che poi si sblocca quindi in cui tu riuscirai va bene ametista poi mi farai sapere nei nei commenti ok ok andiamo a vedere per il quarzo rosa cosa ti sta per accadere partiamo dagli oracoli questi sono gli oracoli volume 1 se vuoi avere questo mazzo di carte ti lascio il link giù nella descrizione di questo video ok andiamo vediamo ramoli volume 1 quarzo rosa come ti ho detto non do tempo in questo video quindi avrà validità da quando tu vedrai questo video anche fra anni sarà comunque valido va bene per il quarzo rosa cosa sta per accadere al quarzo rosa la partenza dove vai quarzo rosa che bello i desideri i sogni sono desideri di felicità e l'indipendenza wow allora qui si apre un nuovo capitolo della tua vita cioè qui sono chiarissime queste carte ora tiriamo anche tutte le altre anzi tiriamola subito questa guarda allora qui c'è un nuovo capitolo della tua vita qui c'è un sogno che si deve realizzare un desiderio e in modo anche abbastanza veloce fai attenzione quarzo rosa qui c'è oh mamma oh mamma new love energy qui c'è un nuovo amore ma un nuovo amore a 360 gradi guardate com'è bella questa carta te la puoi rivedere ok il cuore che ha le ali proprio le ali al cuore invece ai fieri ok quindi qui c'è la realizzazione di un sogno la realizzazione di un desiderio un qualcosa a parte un nuovo amore sicuramente anche quello va bene potrebbe essere anche quello quarzo rosa però quello che mi treme dirti è proprio un'emozione tua qui c'è una tua emozione un tuo sentimento che che prende il volo un qualcosa che inizia il cuore che si apre un qualcosa che si realizza sicuramente potresti fare un viaggio nel senso vero e proprio materiale ma qui c'è anche un viaggio nel senso un cambiamento per la sua vita meraviglioso che ti porta verso un qualcosa proprio di bello qui ci sono dei soldi vedo anche movimento di soldi movimento di denaro ok sicuramente anche quello ma vediamo i tarocchi poi facciamo tutto il discorso insieme vediamo i tarocchi quarzo rosa vediamo il quarzo rosa sta per accadere al quarzo rosa il fante di denari come prima carta la forza qui c'è un nuovo inizio per te la temperanza l'asso di spade il giudizio è l'imperatore ne è uscita una in più ma ne vale la pena ne vale assolutamente la pena il cavallo di denaro ascolta qualsiasi rosa io non so da che parte iniziare a parlare quando ne vedo tante mi si intreccia la lingua non so capisci non so come fare a parlare come fare a raccontarti le tutte allora senti qui sicuramente ci sono dei denari dei soldi che arrivano un qualcosa che hai smosso ok un qualcosa che hai già mosso sinceramente ora ti arriva proprio la ricompensa chiamiamola la ricompensa del tuo lavoro delle tue mosse di ciò che hai fatto di ciò che hai seminato arriva proprio il raccolto il momento della mietitura va bene prima cosa seconda cosa qui c'è un qualcosa che cambia anche in un rapporto che sia d'affetto cioè d'amore vista questa bellissima carta che parla di un nuovo amore new love energy ok new love energy intesa come proprio l'energia per un nuovo di un nuovo amore quindi questo sicuramente però vedo anche vedo anche come dire il riemergere di un amore in una persona cioè una persona che si rifà viva però effettivamente qui fanno vedere anche il nuovo quindi i casi sono due non vedo due persone oddio ce le fosse anche vedere due persone sinceramente una più giovane e una più adulta ok quindi qui c'è un qualcosa che accade sia con questa persona che si rifà viva magari dopo un pochino di tempo sia questa nuova conoscenza con questa nuova persona ok posso vedere entrambe le entrambe le situazioni entrambe le cose ok detto questo qui c'è proprio un periodo di tranquillità di serenità di pace di di sai quando una persona dice oddio mi sento rinascere mi sento proprio ecco una rinascita proprio se vuoi anche solo emotiva anche solo dentro di te ma anche se qui la vedo anche nella pratica nel senso che come ti ho detto ti vedo arrivare dei soldi qui ci può essere una nuova conoscenza che arriva nella tua nella tua vita tanto relax sicuramente c'è anche quello ok quindi tu prenderai dei momenti insomma no per proprio per riposarti per rilassarti ma anche l'indipendenza ecco l'indipendenza a cui se tu miri perché qui si punta proprio all'indipendenza sia economica sicuramente l'indipendenza economica ma anche proprio di persona mi posso dire sì il volersi rendere indipendente da qualcosa o da qualcuno in tutti i sensi o molte volte ovviamente l'indipendenza economica quando uno è indipendente economicamente può decidere tranquillamente qualsiasi cosa della propria vita va bene comunque ecco questo desiderio che tu realizzerai di indipendenza da qualcuno o da qualcosa magari forse proprio da quest'imperatore comunque uomo o donna che tu sia qui fanno vedere sicuramente anche il decidere un qualcosa riguardo una persona con cui ti trovi tanto bene qui c'è proprio il trascorrere dei momenti lo stare bene proprio lo stare bene con una persona ma guarda qui se tu lo desideri tu potresti anche traslocare traslocare o andare da qualche altra parte senti guarda qui c'è qualcuno che si fa vivo insomma per diciamo per rubarti il cuore va mettiamola così vediamo i segni zodiacali guarda queste sono carte molto belle potresti veramente avere a che fare con due persone corso rosa due persone una più giovane e una più adulta almeno magari rispetto a te una più piccola una più grande di te insomma allora qui c'è il segno del leone sicuramente lo scorpione vediamo il cancro il sagittario cancro che viene confermato ok acquario i gemelli il sagittario viene confermato e la vergine e i pesci ok questi segni zodiacali vediamo anche con il mio sacchettino voglio tirare un po' qualche indizio magari ti può aiutare a capire chi è quell'imperatore o con chi tu avrai maggiormente a che fare vediamo nel prossimo periodo vediamo se ti danno qualche indizio comunque qui un nuovo amore ci sta alla grande una nuova conoscenza un nuovo amore mamma mia troppe allora questa è una W e questa una M vedi non sono uguali esatto quindi qui c'è la M di Milano la W di Washington la N di Napoli la U di Udine la Y di York qui ci sta New York qui ci sta proprio comunque fammi sapere magari ti devi trasferire lì la U di Udine poi ci sono i numeri 3 il 4 fammi un po' vedere e il 6 o 9 va bene o 6 o 6 o 9 quindi vedi tu quale in quale tutti ci tutti ci ritrovi va bene fammi sapere ti ripeto io qui vedo due persone due potrebbe essere una nuova e una che invece ritorna già che tu conosci con cui ancora insomma tu hai a che fare comunque un desiderio sicuramente che si realizza qualsorosa sia a livello economico sia a livello proprio affettivo tu arrivi a una conclusione di un qualcosa c'è una situazione che cambia in modo repentino e che ti porta a quello che ti ho appena narrato va bene quindi fammi sapere giù nei commenti e andiamo adesso a vedere l'altro mazzetto andiamo allora andiamo a vedere per te avventurina verde cosa ti sta per accadere senza tempi quindi questo video avrà validità dal momento in cui lo vedrai anche se avesse degli anni vediamo oracoli volume 1 partiamo da loro se vuoi questo mazzo di carte ti lascio il link giù nella descrizione di questo video va bene allora andiamo a vedere avventurina verde cosa sta per accadere a queste persone ok l'affetto guarda com'è fanno vedere un uomo con il bambino la riparazione che belle carte vediamo no e il discernimento non ho qui scusate ma voglio aspettare perché sono troppo belle io quando vedo il troppo bello voglio essere sicura prima di lui della gente attenzione ora ti spiego queste sono queste carte per quello che rappresentano sono pazzesche sono la fine del mondo sono una cosa bellissima avventurina ok quindi sta arma mettiti seduta bene tranquilla non mi svenire avventurina verde cosa sta per accadere a coloro che hanno scelto l'avventurina verde avventurina no follow your dreams ah è qui te la senti avventurina rimaniamo con i piedi per terra io non voglio illudere nessuno ma queste carte sono la fine del mondo segui i tuoi sogni ed effettivamente qui c'è un sogno che si realizza avventurina verde allora qui ti dico tutto quello che ci vedo ora vediamo però i tarocchi stiamo ancora con i piedi per terra mi raccomando mamma mia anzi guarda mentre se ne parlo già vado a mischiare il mazzo di tarocchi che hai scelto allora qui c'è un sogno che si realizza una novità importante una decisione che tu prenderai un qualcosa di nuovo che tu stai per far entrare nella tua vita qui c'è un matrimonio un uomo innamorato quindi o tu sei te o l'uomo con cui tu ti rapporterai qui c'è un figlio o la nascita di questo vedi c'è un bambino appena nato o un bambino appunto che nasce che deve nascere o che è appena nato comunque qui c'è un e non lo dico per questa carta qui c'è un figlio ok un figlio magari puoi decidere di avere un figlio con il tuo compagno o la tua compagna magari lo avete appena avuto lo avrai qui ti promettono questo c'è un matrimonio o comunque una comunanza no un qualcosa quindi una convivenza un matrimonio ok ci sono dei progetti per l'avvenire quindi la coppia che cresce che si espande ho detto con l'arrivo addirittura ad un figlio se non ci vogliamo vedere proprio la nascita ad un figlio che vedo può essere semplicemente la nascita cioè la crescita del rapporto che si fa sempre più profondo sempre più importante queste sono carte belle ma belle ma belle ma belle se non non lo ritieni per te perché per età per situazione tua personale per qualsiasi motivo magari è tuo figlio ok è tuo figlio che ti dice avrà un bambino che l'ha appena avuto che ne so io cosa ok vediamo avventurina verde il 9 di bastoni come prima carta l'otto di spade vedi infatti il giudizio ho capito il 2 di denari guarda non ah un'altra cosa che non ho detto potrebbe anche solo semplicemente trattarsi di come si dice di fare la pace con qualcuno qui c'è anche un fare pace e il 10 di mamma mia il 10 di denari e il 9 di denari nel taglio come se non bastasse senti anche fare la pace con qualcuno sinceramente si può trattare anche di anche di questo comunque qui c'è una nuova iniziativa un qualcosa che tu potresti decidere guarda guarda nel taglio il re di spade la regina di bastoni e il 9 di denari e con questa posso chiudere le carte chiaro senti avventurina io non so che cosa dirti posso parlare tre ore tre giorni queste carte sono bellissime anche perché in questo momento che tu mi ascolti tu potresti invece vivere un momento un po' un felice ecco essere diffidente essere proprio critica nel senso io non ne voglio sapere e io qui e io là e no fanno tutti schifo e la vita una o è te puoi dire quello che ti pare ma qui ci sono delle carte che ti faranno rimangiare tutte queste parole brutte e infelici che tu dici o pensieri infelici che tu fai cara avventurina verde poi tu me lo farai sapere giù nei commenti guarda io non so quanto tu devi aspettare perché i tempi insomma ok io vedo forti i mesi di febbraio e di maggio non so se maggio febbraio 2024 o sarà il 2025 io non te lo so dire ok perché non è vero nulla che le carte le vedano tre mesi lo dice che non le sa leggere ascolta è vero che i tempi non si sanno c'è qualcuno in cui le carte gli si dimostra cioè gli si rivelano gli si avvera tutto a breve quindi vedono le cose veloci va bene chi invece vanno avanti anche negli anni ecco a me sono successe cose che ho visto negli anni quindi ma io allora eh ragazzi non lo decido mia io il destino tuo io ti dico quello che vedo segui i tuoi sogni non li mollare non li lasciare perché qui c'è un sogno che si realizza un qualcosa di bello quindi sicuramente potrai fare pace con un figlio con un compagno una compagna insomma va bene qui c'è proprio l'affetto l'amore ma guarda poi letteralmente l'amore che viene riparato potremmo dire non è proprio ora non è solo così però per dire vedi un affetto un amore un affetto che viene riparato che viene messo a posto proprio con la testa magari per mezzo anche di un'altra persona che potrebbe fare un po' da mediatore da pacere non lo escludo comunque questo è un messaggio una comunicazione che ti arriva dopo del tempo che riporta la stabilità la serenità di un rapporto questa è la prima cosa avventurina poi qui c'è anche un discorso di soldi un discorso economico magari forse proprio ereditario qui ci potrebbe essere stato un qualche cosa riguardo questo ok ho ancora una sentenza mi viene da pensare anche a una sentenza ad un tribunale magari tu hai sofferto tu hai patito tu sta patendo queste lungaggini queste cose perché qui vedo anche un po' di lungaggini capito però poi la cosa andrà andrà benissimo per te quindi resisti 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 dei soldi che ti arrivano quindi aspetta anche quelli va bene e la riparazione fra virgolette di un rapporto vediamo anche le civille cosa hanno da dire ma guarda queste sono carte stratosferiche ma belle stratosferiche qui si potrebbe parlare anche di un'eredità se così fosse sta tranquilla avventurina verde guarda l'anello l'anello la casa e la lettera ok quindi qui c'è una relazione un rapporto che si era magari inceppato incasinato insomma va bene che torna alla serenità torna alla tranquillità quindi qui c'è una comunicazione che arriva riguardo questo rapporto ma riguardo anche la casa perché qui c'ho la casa anche nel vero senso della parola ok quindi qui si potrebbe parlare anche di casa nel vero senso della parola vediamo i segni zodiacali poi c'ho le lettere i numeri per capire magari anche qualcosa in più di chi ci stanno parlando queste carte allora avrai a che fare con il segno del toro con la bilancia sono tutti segni di venere sarebbe carino sapere di il segno 6 guarda per capire i transiti il cancro niente questo niente qui ho visto una carta no anche questo niente i gemelli il segno dei gemelli ariete questo niente lo scorpione il sagittario gemelli viene confermato i gemelli cos'altro per la ventolina verde ok segno della bilancia lo avevamo visto quindi viene confermato lo scorpione viene confermato no non ne tiro più quando cominciano a ripertersi allora rifermati niente no dicevo voglio aggiungere il toro ma è uscito quindi non ho da aggiungere proprio niente ok mettiamo anche il segno dell'acquario basta mi fermo qui voglio vedere con il mio sacchettino magico se ci danno anche qualche lettera qualche numero per capire ma allora guarda qui c'è la E la E di Empoli la R di Roma la X del Perra la I di Imola la I il numero 3 il 3 numero 8 e il numero o 9 o 6 insomma potete decidere voi il 6 quindi un numero di telefono delle iniziali di un nome un mese insomma troverete voi sicuramente il messaggio adatto adatto a voi alla vostra situazione va bene avventurina queste le cose che ho visto in modo più in modo più chiaro che le carte vogliono comunicarvi quindi fammi sapere giù nei commenti in cosa ti ritrovi e vediamo un pochino cosa accadrà queste sono carte stratosferiche non te lo dico più quindi sappile sfruttare sappi cogliere queste occasioni quando si presenteranno ma qui tu sarai anche te che tu farai qualcosa insomma qui c'è anche una certa passione una certa energia anche da parte tua credo tu stia lì a aspettare che si fiova dai cero qui le occasioni tutte le crei comunque detto questo bellissime carte fammi sapere e noi ci si vede qui al prossimo video ciao 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 ciao